ragazzi ragazzi via piangere infatti dove andarmi a porchi rendi guardate sentite il rumore sentitelo installo mi è arrivato dalla Germania oggi ho installato ora lo sto installando ora anzi è francese ricordiamo il codice qui ce l'ho sentato qua aspettiamo mettiamo ok allora andiamo sui mod install lo mettiamo su D si vede D e porca vacca mi fa mettere su D so now we che fa su one moment please eccolo ecco lo sta installando tra poco finisce e facciamo una bellissima anteprima di Pestone 11 finalmente potrà finire meglio questa nottata parte 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 alle due del 38 dopo ho finito due coglianaggi alla fiera un accoglianaggio un accoglianaggio proprio un accoglianaggio quello che raccoglianaggio non so se state capendo cosa dico questo è questo impiccicando parole a minchia sapete com'è guardate che è bello questa copertina guardate 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 facciamo un parco facciamo un parco un parco un sogno così frigido ma che zami rendi ora in mezzo andiamo eliminare la demo perché ne sa se cogliano questa demo ma io eliminavo su make cioè proprietà aspego la piccocorso file bene congello direttamente subito tutta la cartella non è spazza la minchia si si ok primo passo fatto la minchia monnezza si 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 diretti monnezza monnezza non è sto patacco via questa cance con la buona di ovviamente oh 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 colpo di sce ok siamo quasi pronti ragazzi è finita terminare io sono un coglione perché ma fa gulo però di todos modos ok sorti studiamo il mio app studiamo il mio respo ora facciamo una cosa analogica con con AGI vabbè vabbè con AGI abbiamo le copia sul Nektor copia AGI non si qui ok allora appartiamo l'accesione Magusot lo stick è nello xbox solo per il pc l'abbiamo accesa aspettimelo che ho riportato a tono per vedere il bot che ti metti qua iniziamo ce l'abbiamo fatta l'india l'india i primordi dov'essere questo l'india il primordi il colpo a cassai Grazie. Questo qui dovrebbe essere San Paolo. Ma c'è un'afflammazione. Grazie. 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 Grazie.